La tua sicurezza dipende da tante cose, anche dai tuoi capelli. Ma stress quotidiani e cambi di stagione possono metterli alla prova. Per questo c'è Aminexil di Dercos. I capelli sono più forti e resistenti, risultati visibili in tre settimane. Provalo anche tu! Aminexil Intensive 5 di Dercos, numero uno in farmacie e parafarmacia.